su quanti siamo si si ve lo aggiorno mo ti dico vedi parlo del modo GP parlo del modo GP siamo 500 regà dai dai ma ancora dobbiamo salire siamo il boss del popping facciamo così ma quale è il batter pop parlate bene l'italiano eh bravo allora la prima cosa te la dico io Gabriele allora non tutti sanno non tutti sanno che io ti conosco dall'epoca in cui tu c'avevi Oscar Abeo Oscar Abeo blu manco un tatuaggio c'avevi nemmeno un tatuaggio c'avevi 16 anni se non mi sbaglio sono 16 anni io ero ragazzino e me ne andavo per lo stadio perché comunque era amante da Roma così mi piacevano gli Ultras ero idolatrato dal mondo Ultras comunque perché prima era diverso magari da adesso manco c'è altro più mi guardo il basket sono sempre da Roma per carità però comunque mi ha rotto il cazzo il calcio e niente andavo allo stadio vedevo sempre questi questi personaggi particolari comunque a me sconosciuti futuristici chi con la camata chi con il tatuaggio qua chi qua chi erduce chi decolata tutte cose comunque sono cresciuti in un ambiente diciamo fascista comunque nella mia zona e poi quel tempo ognuno prende la sua strada e niente il basiliano comunque faceva parte dei gruppi più importanti che a quel tempo ero stadio da Roma ero trattato molto dal suo personaggio mi ricordo la prima volta che lo conorbi fu sul corso Francia niente avevo il motorino lui aveva l'SH e già non c'era l'occhio quindi quando si girò io ho detto oddio ma questo come cazzo va a guidare il motorino ha fatto la capriola questo l'ho girato o ha fatto la capriola ho girato con tutte quante le spalle e niente io poi dall'aria guarda io sono sono gabbelino vado allo stadio così insomma da lei da là mi sono innamorato di tutto quello che era il mondo ultras perché prima era figo in culo nello stadio prima era bello sì era poco figo in culo nello stadio per me era la cosa più divertente del mondo l'adrenalina quando finiva la partita non si capiva chi stava con la diavolina chi stava con la canna così comunque era divertente io stavo con la diavolina sempre però io piano a fuoco proprio ma no ma manco troppo tutte le leggende mamma mia per carità ma che figo se ci sono qualche domanda da fare abbastanza carina vai dai allora io ho conosciuto Brasile grazie per la storia di Stati Galla dicono poi tu mi dissi pure oggi te li lo fai alcuni pensavano che avete litigato però adesso vi vedo belli belli insieme quindi ma io uno lì quando fa qualcosa a qualcun altro io a Massimiliano non gli ho mai fatto niente ma che sta scherzando e manco mi permetterei mai è vero forse sono uno dei pochi tra tutti quelli che girano intorno a Massimiliano che mi sono sempre ricomportato bene se lo sbaglio mi sono mai chiedo scusa però quando quando due persone si vogliono bene e io te l'ho sempre detto quando tu sbagli o fai bene in tutti i tuoi casi io ti dico qui hai sbagliato e qui hai fatto bene attenzione però quando quando fai del bene non te lo riconosceva nessuno si dice fai del bene dimentica questo è vero ragazzi tra l'altro c'è c'è un ragazzo che fa da streamer che penso che sia anche molto tuo fan che si chiama Wizardio e ti saluta un bacione a Wizard comunque devo dire che siamo tre bei ragazzi visto mancava se mi faceva la barba che ci guardano anche perché comunque parliamo sempre con gli uomini ragazzi siate coinvolti anche voi allora cosa avete da chiedere ragazzi dai dai allora se nessuno c'ha da chiedere nessuno allora ieri stavo raccontando perché i ragazzi mi dicono di raccontare no Gabriel qualche episodio che però faceva sorridere tra virgolette